Vi ringrazio di aver accolto l'invito a questa presentazione organizzata dal Consiglio regionale Piemonte. Io sono Domenico Tomatis e sono il direttore della comunicazione istituzionale del Consiglio e farò una breve introduzione nella veste di moderatore di questo incontro, ma lascerò immediatamente la parola ai colleghi giornalisti Alessandro Bruno e Mario Bocchio che sono un po' l'anima di questa pubblicazione, di questo tastabile dedicato alle società sportive storiche. Diciamo che Alessandro e Mario sono un po' l'anima sportiva della nostra redazione perché uniscono al mestiere, alla professione del giornalista pubblico, anche la passione sportiva. E sono loro che infatti hanno proposto e poi realizzato per il nostro periodico istituzionale Notizie, il nostro trimestrale, il magazine istituzionale, un servizio dedicato alle società sportive storiche. Peraltro la regione ha una specifica legge, la 32 del 2002, e devo qui scusare, approfitto per scusare l'assenza dell'assessore Cirio che mi ha chiamato personalmente per pregarlo di scusare che oggi ha degli impegni, sapete che in Piemonte c'è il giro d'Italia e quindi doveva seguire quella grande manifestazione. Dicevo, la legge 32 del 2002 che è volta a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e archivistico delle associazioni storiche. È stato costituito anche un albo, sono iscritte in questo momento 144 società e ben 79, quindi oltre la metà, hanno più di 70 anni. Quindi l'idea di realizzare questo tascabile che dà conto, seppur in modo molto sintetico e stringato come nella natura della nostra collana dei tascabili, di questa realtà del Piemonte. Forse una realtà poco conosciuta perché quando noi pensiamo al Piemonte in genere abbiamo in mente le grandi squadre di calcio che tra l'altro qui sono rappresentate perché abbiamo l'onore di ospitare Beppe Furino, già capitano della Juve e vice campione del mondo. Abbiamo l'onore di ospitare un grande giocatore del Torino, Natalino Fossati. Dicevo, quando pensiamo al Piemonte sportivo pensiamo alle grandi squadre di calcio, al volley, al basket, ma forse si dimentica che in realtà nel nostro territorio, sulle rive del Po, è nato ad esempio il canottaggio italiano con delle società che hanno, alcune hanno addirittura 100, 130, 150 anni. A Torino sono nate le prime società di ginnastica, la reale società ginnastica che addirittura ha 170 anni e che oggi ospita la sede nazionale dell'UNASHI, che è l'associazione che raggruppa le società centenarie i cui dirigenti sono qui presenti e anche loro ringraziamo di aver accolto il nostro invito. Diciamo che lo sviluppo della pratica sportiva e l'ampiamento a fasce sempre più ampie della popolazione ha accompagnato lo sviluppo civile e economico del Piemonte, rappresentando uno degli elementi più evidenti della diffusione di condizioni di maggiore benessere anche in quelle classi sociali che in precedenza erano precluse. Questo fatto ha fatto sì che il Piemonte, all'avanguardia in tante cose e anche in questo, venisse via via negli anni ad ospitare delle manifestazioni di grande prestigio internazionale, come ricordo tra le principali universiadi del 59 e del 70, le universiadi invernali del 66 e del 2007 e soprattutto i giochi olimpici invernali del 2006, il cui ricordo, penso sia in tutti noi, e che hanno rappresentato una vera svolta per il Piemonte, non solo dal punto di vista sportivo, ma dal punto di vista culturale, turistico, economico. Però, oltre a questi che ho ricordato sommariamente, sono decine e decine gli eventi sportivi di grande rilievo ospitati sul nostro territorio e, oltre al passato, non possiamo neanche dimenticare che un futuro vicino ci aspetta, e cioè il fatto che nel 2015 Torino è stata proclamata capitale europea dello sport, su indicazione, su designazione della comunità europea. Un ultimo cenno, prima di lasciare la parola ai colleghi, lo voglio dedicare a quegli sport, diciamo, piemontesi, tra virgolette, cioè quelli che sono proprio tipici della nostra cultura e della nostra tradizione, quelle discipline che affondano le radici nella nostra cultura popolare. Perché è vero che ceriamo nel calcio, ho già titato altri esponenti che sono presenti, altri ce ne sono, nel ciclismo abbiamo dato dei grandissimi campioni a livello internazionale, nell'alpinismo, ma non possiamo non guardare con un particolare occhio di attenzione a quegli sport che hanno una specifica dimensione regionale. In particolare vogliamo ricordare la palla pugno, di cui abbiamo qui un grandissimo campione, Massimo Berruti. È uno sport che è nato sulle nostre piazze, che è stato cantato da letterati autori come Fenoglio, Pavese, Arpino, ma ricordiamo anche il tamburello, che si gioca ancora in molti centri astigiani, e poi da ultimo le bocce che forse in questo volume sono state poco considerate, ma che avrebbero meritato un ben maggiore spazio compatibilmente con le pagine disponibili, perché ancora oggi sono praticate in centinaia e centinaia di bocciofili a livello amatoriale, ma anche a livello agonistico, con risultati di grandissimo rilievo. Non dimentichiamo che il Piemonte ha avuto un campione come Umberto Granaglia, che è scomparso appena cinque anni fa, pluricampione del mondo. Oltre ai personaggi che ho già citato, Beppe Furino, Natalino Fossati, Massimo Berruti, abbiamo ancora da ricordare Beba Schrantz, che è una campionessa di sci del Verbano, che oggi ci onora della sua presenza, e Lucia Panico. Stiamo aspettando Lucia Panico. Voglio ricordare ancora, prima di dare la parola a D'Alessandro, parli prima tu o a Mario? Come volete. Non vi siete messi d'accordo. A Mario è più spontaneo. È così. Voglio ancora ricordare e ringraziare della presenza il presidente regionale del CAI, Castelli, che ho incontrato pochi giorni fa a Palazzo Lascaris e che è qui con noi, anche perché quest'anno il CAI festeggia i 150 anni dalla nascita. Sul prossimo numero di notizie che uscirà a fine giugno, dedicheremo un ampio servizio alla storia del CAI, alle grandi imprese alpinistiche che hanno contraddistinto molti piemontesi e a tutto quello che il CAI ha rappresentato per la nostra storia, per la nostra società. E quindi grazie ancora e adesso la parola a Mario Bocchio. Grazie, io ringrazio Domenico Tomatis per averci dato la possibilità, insieme all'amico Bruno. Tra l'altro veniamo da una tradizione anche sentimentale, anche Bruno poi ve lo dirà, è figlio anche di giornalisti che sono cresciuti sul campo, quindi la sentiamo nostra, la questione dello sport piemontese. Di fare questa piccola, piccola, noi l'avremmo voluta fare grandissima, ma è una goccia che va a colpire quello che noi come istituzione ci proponiamo e ci propone la legge, cioè non far morire una tradizione, una grande tradizione sportiva che è il Piemonte. Per quanto mi riguarda ho curato essenzialmente la parte dedicata al calcio e la parte dedicata al ciclismo, ma vorrei partire proprio dal calcio, sarò sintetico. Io sono innamorato, oggi il calcio è diventato un fenomeno particolare, forse esasperato. Io sono innamorato degli Eurogoal, che erano le trasmissioni delle Coppe Europee del mercoledì, quando si giocava una sola volta alla settimana infrasettimanale. Sono innamorato di quel calcio le cui maglie erano di lana e si inzuppavano di sudore e non sono le maglie elastiche di oggi, come ha detto qualcuno, si è perso un mondo. Ed era anche un mondo di signori, che sono degli esempi da dare alle giovani generazioni che noi vogliamo, tramite anche questo opuscolo, lanciare questo messaggio. Ed è per quello che oggi ho voluto, assieme all'amico Bruno, assieme al nostro settore, avere due persone importanti per lo sport che non c'è più, per quello che hanno lasciato. C'era un giornalista siciliano come lui, Vladimiro Caminiti, che scriveva sempre Furia, perché c'era Furia Cavallo del West, che era il bel cavallo che è aggressivo, Furin, perché si chiama Beppe Furino, Furetto, perché in campo era un Furetto. E si diceva anche che sapesse, me lo perdona l'amico Furino, sapesse anche picchiare al momento giusto senza farsi vedere, ma con quel tocco di campione, per cui anche l'eventuale fallo diventava un qualcosa di epico e di glorioso. È stato un grande campione, ha portato la Juventus assieme a Giovanni Ferrari, un altro, un Alessandrino, un altro piemontese, è il giocatore che nella storia del calcio ha vinto più Scudetti, quindi un mostro sacro del calcio. Siamo a Torino, gli fa da contraltare un'altra grande società, il Torino, Natalino Fossati, anche lui a rappresentare questo calcio che non c'è più, questo calcio storico che ha fatto epoca, Torino con la storia di Superga, questa, 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 non piangersi addosso, ma questa epopea lontana di campioni che noi abbiamo solo sentito parlare, che hanno comunque segnato la storia della rinascita dell'Italia. Lui è cresciuto al Philadelphia, ahimè, ed è stato uno di quelli che è cresciuto con la pelle della granata e ci racconta quindi che cos'è stato anche la divisione dello sport a Torino tra Juventus e Torino. Ma non dimentichiamolo che tra poco, tra l'altro, li stiamo aspettando perché per problemi di parcheggio non riescono ad arrivare. Il Piemonte è storia di calcio, ha fatto la storia del calcio mondiale, ha fatto la storia del calcio mondiale perché stiamo aspettando ad esempio il Casale Calcio, che è stata la prima squadra a battere una squadra inglese nel 1913, il Reading, ed è la squadra scudettata al Casale Calcio 1913-1914. Purtroppo sono realtà di una provincia grassa che sapeva andare a grandi campioni e allora io qui ringrazio per la presenza Natalino Ferrari, sono due Natalini, sono della stessa zona, la zona La Mandrogna, cioè la zona di Alessandria che è stata terra di grandi campioni, pensate, lui oggi ha una squadra che milita in prima categoria, ma una squadra che ha saputo lanciare la storia del calcio, dei mostri sacri, come è stato Gigi Cassano che ha vinto lo scudetto nel quinquennio del Grande Torino, il primo scudetto del quinquennio del Grande Torino, Gino Armano, prima alla tornante del calcio italiano, campione dell'Inter, campione d'Italia con l'Inter, Mario Pietruzzi che è stato un antesignano del calcio alessandrino, della scuola del calcio alessandrino. Io mi fermo qui, ho detto questi, forse anche perché me lo sento con passione, quello che è stato il calcio, perché vorrei proprio che portassero loro la testimonianza, che fosse una testimonianza giusta ai giovani. Oggi in qualsiasi ambiente il giovane si presenta e dice io voglio arrivare subito a un risultato, loro ci hanno insegnato cosa vuol dire invece sudare, cosa ci hanno insegnato cosa vuol dire porsi come esempi positivi e la politica legata allo sport vuol dire anche dire questo. Il ciclismo, qui io dico solo, c'è l'amico Balduzzi che viene da Tortona, l'abbiamo voluto invitare nel nome di suo papà Fausto Balduzzi perché ha saputo dare fiato ad una grande società storica, una delle più vecchie del ciclismo che ci sono in Italia, il Veloclub tortonese intitolato alla memoria di Cerse Coppi, il fratello di Fausto Coppi, morto a Torino durante un'edizione della Milano-Torino al motovelodromo per una stupida caduta. Pensate, una società vecchissima, già ai tempi di Cugnolo, uno dei primi campioni d'Italia, chiamato Manina perché era scorretto in volata assieme a un altro grande, il diavolo rosso Gerbi di Asti e poi tanti altri amici. Per ultimo permettetemi ancora di ricordare che è già stato ricordato Massimo Berrutti, io vengo dalla zona di Alba, siamo cresciuti con questo mito della palla pugno, qualcuno ha detto che lui aveva un altro grande rivale che era Felice Bertola, che il duello tra Berrutti e Bertola, in questo sport popolare, le colline in pugno, c'è anche una grande opera, è stato anche scritto da Arpino, le colline in pugno, c'era un dualismo, qual era questo dualismo? Fausto Coppi, Gino Bartali, si diceva Pelè o si diceva in quel periodo lì poi specificamente Maradona, si possono dire tante cose il dualismo dello sport, chi era più forte tra Berrutti e Bertola? Ognuno era stato un campione, ognuno aveva una propria identità. E da ultimo permettetemi di ringraziare Beva Scrantz perché è una donna, ha saputo in un periodo importante per lo sport italiano che è stato lo sci, ma è uno sci di grande, io l'altro giorno vedevo Rai Sport, Stori, tanto ecco li saluto da Casale, mi permetto di dirlo, con un grande cimeglio che ci hanno portato in visione l'assessore allo sport del comune di Casale Federico Riboldi assieme al direttore sportivo del Casale Calcio Danna, che sono a testimoniare la vicinanza di una grande squadra al Casale, io non dovrei dirlo perché sono alessandrino, tifoso dichiarato dell'Alessandria e si dice sempre contro il Casale, però il Casale bisogna ricordare che è stato veramente l'antesignano del grande calcio italiano. Quando giocava il Caliga dicevano, quando giocava Umberto Caligaris. E permettetemi di chiudere appunto per dire con questo ringraziamento di dare la parola all'amico Bruno, però se mi permettete, se non è troppo sgarbato nei confronti di Bruno, io vorrei chiamare qui con il classico gelato, il microfono, per una testimonianza, in particolar modo iniziare con, poi intervalleremo in questo tempo che ci rimane, con Beppe Furino e con Natalino Fossati, perché lo ripeto, li abbiamo voluti come Regione Piemonte, come sensato per un emblema della loro correttezza, del porsi come dei belli atleti nei confronti di un ambiente che oggi purtroppo l'abbiamo detto esasperato. Noi abbiamo cercato, non siamo patetici, qualcuno ha detto ma si guarda troppo al passato, però ricordatevi bene che se non si guarda al passato, non si guarda la propria identità, da dove veniamo, non sapremo nemmeno un domani dove noi vogliamo andare. Grazie. Sì, pronto? E' acceso, è acceso. E' acceso. Ma non sono preparato perché non sapevo che dovevo fare un intervento, quindi vado a braccio. Io ho fatto dello sport, io sono nato sportivamente in, io sono meridionale, però sono nato sportivamente qui a Torino perché noi, la mia famiglia, quando noi siamo arrivati a Torino nel 58, mio padre era un maresciallo riguardo di finanza, fumo trasferiti qui a Torino e quindi fumo catapultati in questa città troppo grande, tanto grande, che mi spaventava. L'unica cosa importante per me comunque in quel periodo era il fatto che io, essendo tifoso juventino, venivo a Torino e avrei avuto modo di vedere la mia squadra. La prima partita che vidi fu un Juventus-Lazio in un settembre del 58 nessuno correva, ce n'era uno solo, piccolino, all'ala destra che correva come un pazzo ed era Mucinelli. Charles Sivori, Boniperti, non avevano voglia quel giorno, quella sera. Ma Torino, da quello che ricordo e so, è sempre stata una città che si è dedicata allo sport, in tutte le varie discipline sportive. Io ricordo che allora c'erano le aziende private che contribuivano a formare degli atleti, c'era il gruppo sportivo Fiat che era molto importante nell'atletica, nel canottaggio, nel nuoto. Però i tempi adesso sono cambiati e quindi per quanto mi riguarda, se io devo andare a ricordare quello che era l'attività sportiva in senso ampio nel calcio, nella disciplina del calcio, avendo fatto tutte le giovanili, qui dai giovanissimi fino ad arrivare all'attuale primavera, io ho girato tutti i campi di Torino e ho avuto modo di valutare quello che era lo spessore del calcio piemontese che è stato celebrato, credo che voi siete più preparati di me in questo senso, ma il calcio piemontese è quello che ha probabilmente avuto i maggiori consensi e anche i maggiori trofei negli anni all'origine del calcio. Per quanto mi riguarda, io conoscevo tutti i campi di Torino, allora mio padre non si interessava di calcio, a casa mia non si parlava mai di calcio, l'unico a cui piaceva il calcio ero io. E quindi allora c'erano anche meno pericoli, per cui io prendevo il tram e li dirigevo presso queste società sportive, presso le quali poi si sarebbe disputata. Ed erano campi molto approssimativi, perché erba ce n'era pochissimo, d'inverno specialmente in certi periodi quando l'inverno, quando le temperature erano molto rigide di notte scendevano ampiamente sotto lo zero, a giocare alle nove, nove e mezzo del mattino c'era un bello strato di terreno molto duro, per cui il pallone andava a volte dove voleva. Però noi ci siamo formati in quella disciplina, lì devo dire che io e Natalino, che era dall'altra parte, abbiamo avuto modo di apprezzare tutti questi valori perché quando ti cimenti con le categorie più basse, vedi la passione, lo spirito agonistico e ti formi e apprezzi certi valori che poi te li porti nella disciplina se hai fortuna in serie A. Io ho onorato la mia attività con piacere, con tanta applicazione, con tanta determinazione, con tanta pressione e devo dire anche con estremo professionismo, cosa che c'è anche adesso perché ci sono dei grandi giocatori, questo calcio attuale è un calcio magnifico che avrei voluto giocare. I giocatori appartengono a quest'età e quindi ci sono alcuni, devo dire che qui a Torino è più facile fare dello sport e permettetemi, forse per la Juventus è un po' più facile fare lo sport perché è una città che non per niente abbiamo vinto un sacco di campionati, ci sarà per un motivo, anche le altre società sono organizzate, quindi qualche motivo c'è. A parer mio uno dei meriti è quello della città, che è una città laboriosa, seria, dove si lavora e si fanno i fatti, si sta zitti e si va avanti. Non voglio dire che altre città siano diverse, però è più difficile per esempio a Milano, più difficile a Roma per situazioni ambientali particolari. Qui a Torino io viaggiavo, mi muovevo con estrema serenità e tranquillità, il tifoso non ti prendeva neanche in considerazione o se lo facevo lo faceva con molta discrezione. Da quello che sento, nelle altre parti c'è una particolare attenzione e quindi devo dire che sotto questo aspetto i miei otto campionati li ho vinti con grande applicazione, però devo dire che sono stato fortunato perché ho giocato nella Juventus ma anche nella città di Berlino. Grazie a Furino, ricordiamo adesso da un attimo la parola al collega Bruno, otto campionati a record assieme a Giovanin Ferrari e poi una grande grinta, tutti si ricordano un'immagine, la Juve avrebbe poi vinto la Coppa UEFA contro l'Atletic di Bilbao, in semifinale affrontò la EK Atene ad Atene in un fuoco enorme, 1-0 Causio l'85esimo. Furino ha esultato da solo sotto un intero stadio di gente, questo era Furino. Do la parola a Bruno e siccome vogliamo far ascoltare un po' le testimonianze per esigenze di registrazione e di tempo di essere concisi e dopo Bruno parlerà Fossati, poi il Casale e poi via via gli altri ospiti. Io faccio poi le conclusioni, volevo solo dire una cosa in base a quanto ha detto Furino, comunque siamo sicuramente ancora oggi la regione che ha vinto più scudetti di Gran Lunga perché qualcosa ha vinto sicuramente il Torino ed è una cosa magnifica. La Juventus ha vinto tantissimo e qualcuno vuole fare i conti giusti perché gli juventini dicono che ne hanno vinti 31. Visto che alcuni giocatori che vogliono avvicinarsi al record di Furino contano anche quei due che non stiamo a rimangare il passato. Io sono emozionatissimo perché io li ho visti giocare e andavo al campo al Filadelfi, al Combi con mio padre che vi intervistava quindi per me è fantastico. Adesso abbiamo poco tempo allora bisogna dare abbastanza spazio agli ospiti e adesso è l'ora del toro quindi prego Natalino Fossati di avvicinarsi, prendere il microfono e raccontarci qualcosa di interessante. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, sono venuto molto volentieri anche perché la fiera del libro a Torino è un fatto importante e lo dimostra anche se fuori non è proprio una giornata primaverile si vede la gente, le persone che sono interessate alla cultura e Torino è cultura, non solo calcistica. Io sarò breve però penso di poter esprimere quello che in effetti mi sento di dire. Io sono nato al Filadelfia, al Filadelfia mi piacerebbe un domani che fosse veramente costruito dalle istituzioni, da chi è che può fare veramente il fila, una casa per il Torino dove in effetti io sono cresciuto e tanti altri campioni. Io ho avuto la fortuna di fare l'esordio in prima squadra proprio con Enzo Berzot che è stato veramente un grande, ha vinto anche il campionato del mondo quindi uno dice ma Fossati come ha fatto a esordire con Berzot? Certo io avevo 16 anni e quindi la prima partita lo giocai proprio con... e mi viene ancora così un po' di tristezza, nel medesimo tempo orgoglio perché poi ho giocato anche con altre generazioni. Ma al di là di quello io ho vinto meno di Furino e direi che Furino ha detto una cosa giusta, vinceva la Juventus. La Juventus era un po' il potere mentre invece se vogliamo il Torino era un po' operaio, un po' diverso. Forse la maglia dice già tutto dei colori diversi tra noi e loro. Comunque io sono contento di aver indossato questa maglia e sono il secondo giocatore dopo Ferrini con le presenze quindi non è neanche poco quindi devo dire che sono molto onorato di aver portato quella maglia. Al di là del discorso per rimanere nel breve, certamente Torino è una città che in fondo ha smiugugianen ma alla fine rimangono qua. Perché Torino è amata anche dai torinesi e oggi devo dire che è anche migliorata sotto l'aspetto figurativo. Hanno migliorato i palazzi, hanno migliorato le istituzioni, hanno migliorato il modo anche... e quindi questo devo dire che i giovani stanno prendendo il meglio e quindi viva i giovani d'oggi e chi rappresenta veramente un qualcosa di presente dal sindaco a delle istituzioni che ci sono. Al di là dei colori perché è troppo facile dire io ho fatto qualcosa perché sono del Toro oppure io sono della Juventus. Con questo sarò veramente breve perché so che devono parlare altri. io devo dire che Torino sì è vero che magari parlano poco, è vero anche che magari non sono molto... non ti sembrano amici anche perché se tu un torinese quando vai fuori, io ho lavorato anche in Toscana, hanno un altro modo di vedere. Però il torinese alla fine qualcosa ti dà sempre. se può ti dà anche una mano. Sembra incredibile che il disuca su un rancin. I rancin invece tutto sommato io ho giocato anche uno uno spazio nel mio periodo al Genova alla Sampdoria. I Liguri tutto sommato è brava gente però i Liguri c'è il mare in Liguria quindi c'è sempre quella quella rietta che ti può portare magari un po' di genio e sregolatezza. Il torinese è più pacato, è più preciso, più lavoratore. Senza nulla a togliere senza nulla a togliere ai Liguri. Quindi con questo vorrei dirvi la mia carriera certamente io sono cresciuto proprio nei giovani. Sono venuto a Torino nel periodo del 57 quindi sono arrivato un anno prima di Beppe e devo dire che io ho sempre amato i colori rosso blu. Dal nonno quando io volevo andare a giocare nel Genova e poi invece mi aveva preso la Juventus. E ho anche un po' pianto perché Don Mario diceva come non vai alla Juventus? Tu non lo sai. E no non vado alla Juventus perché preferirei andare al Torino e guarda sono finito al Toro. Mi emoziono perché insomma magari se andavo alla Juve vincevo un po' di più però il capitano era Furino. Era un po' più piccolo di me però devo fare i complimenti a Furia perché Furia per la Juve per conto mio è stato uno dei più grandi capitani. Sicuro. Sicuro. c'è anche Salvadore che ha fatto il capitano però Beppe rappresentava la Juventus. Non molto alto, grintoso, marcava tutti dai piccoli ai grandi e quindi vuol dire che lui proprio aveva il testimone in mano del capitano. Quindi vorrei dirvi altre cose perché poi alla fine quando si prende il microfono si vogliono dire tante cose ma io credo che per buttare fuori la palla e farvi capire che io a Torino ci sono e ci rimango e poi oggi sono nonno per tre volte di tre maschietti e spero che uno di questi giochi nel Torino. Grazie. Ah scusate voglio salutare Berruto che devo dire che la palla a pugno loro la giocano col pugno noi coi piedi non è la stessa cosa perché loro in effetti facendo molto più fatica di noi. È vero? Grazie a tutti e buona giornata per il Salone del Libro. La grinta di Furino che un granato potrebbe dire ricorda la grinta di un capitano granata di qualche anno prima Ferrini che è un monumento granata che era noto per la sua grinta, la sua combattività che purtroppo è morto giovane e quindi a 37 anni, pochi anni dopo che si era ritirato, praticamente uno o due anni dopo. Niente, il calcio ci porta via perché è una passione e quindi verrebbe da parlare in continuazione di tutto quello che porta attorno a sé il calcio. Preciso ancora che abbiamo vinto quasi 50 scudetti in Piemonte se facciamo i conti, c'è la Provercelli, quindi quanto c'è di calcio? Un centinaio di anni? È nato alla fine dell'Ottocento, quindi il Piemonte è importantissimo in questo. Però cos'è che forse ha reso grande lo sport in Piemonte? Dal basso che poi ha portato ad avere delle squadre non solo nel calcio che hanno fatto tantissimo per lo sport italiano. La dirigenza, probabilmente in Piemonte i dirigenti sportivi sono speciali, c'è una tradizione straordinaria. Noi citiamo nel nostro tascabile, tra l'altro, Primo Nebbiolo, uno dei più grandi dirigenti della storia dello sport. E adesso il meeting di Atletica Leggeri infatti è intitolato a lui da qualche anno. Questo evento che era il meeting del 2 giugno e che faceva venire a Torino i grandi campioni dell'Atletica. Adesso c'è ancora sicuramente da Casale l'assessore Riboldi con Danna, che è dirigente di questa squadra storica importantissima. Credo che ci sia anche un giocatore presente e quindi inviterei questa rappresentanza da Casale ad avvicinarsi per poter dare la testimonianza anche dalla provincia, diciamo così. Siamo ospiti di un mandrogno, però siamo a Torino e quindi siamo in campo neutro. Mario è un appassionato di sport vero e quindi è uno dei pochi che... Anzi, c'erano alcuni periodi dell'Alessandria Calcio dove mi chiamavi dicendo spero proprio vinca il Casale, quello possiamo dire. Quindi c'è da dire che tu hai sempre apprezzato l'attività del Casale Calcio. Sono qui col direttore sportivo Giorgio Danna, che nonostante quest'anno un sorribilis per il Casale Calcio ha tenuto alta la bandiera e col più giovane della nostra squadra. Vi ho voluto portare il più giovane perché è la testimonianza di un gruppo che nonostante le difficoltà è rimasto compatto. una stagione sportiva che non è andata bene ma che ci ha visto comunque onorare il campionato e mantenerne la regolarità. È stato forse uno degli obiettivi che ci siamo posti quando ci siamo accorti che la situazione non era quella che avremmo desiderato. Però questo è un argomento triste, invece siamo qui per parlare del grande Casale. Abbiamo portato una maglia che è la riproduzione nel novantesimo dello Scudetto, quindi da qualche anno, della prima maglia indossata dai Norostellati, quella con cui vincemmo con Reading e con il quale vincemmo lo Scudetto nel 13-14. E abbiamo portato anche il gagliardetto storico della società che è appeso tra le mura di Via Trevige e che abbiamo voluto portare qui come Cimeglio. Due eventi importanti del Casale Calcio che hanno fatto sì che ci fosse anche un riconoscimento da parte del Consiglio regionale del Piemonte e l'invito qui tra voi oggi. Uno l'abbiamo celebrato pochissimi giorni fa a Casale, intitolando una piazza dove sorgeva il vecchio campo sportivo Priocco. Oggi sono praticamente tutti i palazzi ma è rimasto un piccolo prato che ricorda quello che è stato un grande campo, che ha ospitato la prima vittoria di una squadra italiana contro una squadra inglese. Proprio il 14 maggio del 1913, il centenario ricorreva 4-5 giorni fa, venne in Italia il Reading, che al tempo era una squadra militante della terza divisione inglese e oggi è stata retrocessa quest'anno dalla Premier League alla seconda divisione inglese. Venne in Italia per una serie di amichevoli. Questa serie di amichevoli la vide vittoriosa contro la nazionale italiana, che era in quel momento priva di giocatori del Casale perché erano impegnati in impegni con la società, vide battere il Genoa, vide battere l'internazionale, vide battere il Milan e perse solo contro il Casale Calcio. Perse 2-1 nel campo di Casale, quel giorno al tempo Casale aveva circa 18.000 abitanti e quel giorno al campo del Priocco erano 10.000 a fare il tifo per i nostellati. Quindi praticamente c'era tutta la città, tranne, credo, i vecchi, i bambini in fascia e coloro i quali non potevano muoversi, tutti gli abili erano roolati. C'erano 10.000 persone, il tifo di casa ha fatto sì che comunque di fronte a una formazione nettamente più importante della nostra dal punto di vista della preparazione tecnica e fisica, ci fu l'aspetto della voglia di giocarsela e di vincere così il Casale riuscì a superare per prima a livello internazionale una squadra inglese. Questo titolo ci ha riconosciuto oggi e devo dire che gli appassionati di calcio ovunque ricordano questo episodio. Lo ricorda anche Reading, che è stato da noi contattato per una partita amichevole e che però ci ha chiesto... Le squadre inglesi sono molto pragmatiche, quindi il loro preziario per una trasferta non era compatibile con le risorse di una squadra di Lega Pro seconda divisione, oggi purtroppo retrocessano i dilettanti, quindi ci siamo accontentati di inaugurare una piazza. Però anche loro, dalla segreteria della loro società, ricordavano questa che considerano ancora oggi un'onta. Chissà che magari la volontà di ripianare questo aspetto che loro considerano ancora un'offesa che è successa cent'anni fa non gli faccia venire la voglia di venire davvero a fare una partita celebrativa da noi. Mi collego a quanto dicevamo prima, se il Piemonte ha 44 o 46 scudetti, che dir si voglia, secondo se sia i Juventini, del Toro, di altre squadre fuori regione, se il Piemonte ha tanti scudetti, e quindi la prima regione italiana come scudetti, lo si deve anche allo scudetto del Casale, che è la società italiana appartenente a una città più piccola che abbia mai militato nella massima serie. Un capoluogo di provincia? Unica non capoluogo. Unica non capoluogo è la più piccola, perché sì, se si esclude lo scudetto del 21-22 della Novese, che però era uno scudetto assegnato a una Lega nella quale le squadre maggiori non partecipavano. Quindi il campionato regolare vinto dalla città più piccola d'Italia è di Casale. Ed è anche la città più piccola d'Italia che ha avuto accesso alla Serie A. Rimarrà così anche dopo le vicende del Sassuolo, perché noi abbiamo qualche migliaio di abitanti in meno. Quindi continuiamo a avere questo primato e ce lo teniamo stretto in attesa di poter un giorno tornare a quei livelli. È evidente che questa è una battuta, oggi il calcio si fa con altre regole, al tempo i nostri giocatori erano tutti casalesi, hanno vinto lo scudetto nel 13-14 e purtroppo tre o quattro anni dopo molti di loro non c'erano più perché erano stati arruolati per la guerra. Qualcuno è rimasto e ha permesso di avere Monzeglio, capitano del Casale, che si alternava con Umberto Caligaris, campione del mondo nel 34-38, e Caligaris, campione del mondo nel 34. Quindi devo dire che anche dal punto di vista della nazionale il Casale ha dato il suo importante contributo. Diciamo dei due grandi campioni, concludo veramente perché stanno rubando troppo tempo, lo scudetto del 13-14, vincemmo 7-1, Giorgio correggimi, vincemmo 7-1 con la Lazio in casa, la finale, e vincemmo a casa loro a Roma 2-0. Così ci aggiudicammo il primo e unico scudetto della nostra storia che portiamo sulla maglia insieme alla Coppa Italia di Lettanti, vinta negli anni 2000. Questa è la maglia storica del Casale Calcio, da lì il Casale Calcio continua a militare nella massima serie fino agli anni 30, per poi scendere nelle serie cadette attorno agli anni 50 e iniziare un'altalena dagli anni 60 ad oggi che ci vede sempre militare tra la serie D e la serie C, con qualche passaggio anche in eccellenza dovuto a fallimenti societari e problemi vari. Per il prossimo anno non so ancora cosa faremo, col direttore ne stavamo parlando venendo su in macchina, la volontà è quella di continuare a far calcio, l'importante è cercare di continuare a far calcio con la dignità che ha sempre contraddistinto le dirigenze, e prima lo diceva bene il collega Bruno, le dirigenze e le società piemontesi. Non possiamo certamente pensare di stare ad alti livelli se non abbiamo le capacità, non possiamo pensare di stare ad alti livelli con persone che non meritano di possedere, è un termine forte perché le squadre sono sempre delle città, di gestire i nostri club. Io vi ringrazio ancora e passerei adesso la parola al direttore sportivo Giorgio Danna. Solamente non voglio essere sgarbato, ma proprio per un saluto, perché poi dobbiamo dare la parola tre minuti poi agli altri ospiti, ricordo semplicemente Casale, Vercelli, Novara e Alessandria, lo storico quadrilatero che ha fatto la storia del calcio italiano. La parola a Giorgio Danna, grazie. Sarò velocissimo, intanto saluto tutti, buonasera a tutti. Sono molto orgoglioso di essere qua stasera perché io comunque sono stato in tutte e quattro le squadre che hanno fatto parte del quadrilatero con diverse funzioni. Poi ho rivisto due persone alle quali io mi sono molto legato, Beppe Furino perché ho avuto l'onore e il piacere di collaborare con lui quando lui era responsabile del settore giovanile della Juventus e Natalino Fossati che è stato allenatore di una società in cui io facevo dirigente e sono due persone dalle quali ho avuto la fortuna di imparare molte cose. Con questo vi ringrazio della serata e speriamo di poter portare il Casale in situazioni più consoli. Così passiamo... Grazie, grazie per queste cose stupende che ci avete detto. Adesso passiamo allo sci che diciamo le gare di sci sono in Italia quantomeno sono nate in Piemonte è una terra di campioni campioni del mondo, campioni olimpici e abbiamo qui l'onore di avere con noi Beba Schranz che anche lei ha vinto, mi pare, un campionato europeo. Sì, ho vinto il campionato europeo nel 67 a Iachorina in Jugoslavia. Buonasera, grazie a voi per l'invito è un onore essere qui. La mia storia parte negli anni... fine anni 60 inizio anni 70 per cui siamo proprio indietro e indietro. Rispetto alle attrezzature di adesso c'erano veramente degli sci completamente diversi i pali che si usavano per fare lo slalom erano completamente diversi adesso ci sono i pali snodati allora avevamo i pali rigidi si usava l'anilina da mettere intorno ai pali perché quando gli atleti buttavano via i paletti bisognava avere un punto di riferimento esatto per tutti e quindi li si rimettevano negli stessi posti adesso ci sono i pali snodati hanno il trapano questi pali che non si muovono mai le gare viaggiano con una velocità diversa la lunghezza degli sci era molto diversa io, piccola come sono avevo degli sci in slano speciale alti 1,95 m adesso viaggiano gli uomini della nazionale hanno il metro e 60 massimo 65 hanno gli sci sciancrati noi li avevamo molto dritti con pochissima sciancratura quindi ci sono tutta una serie di differenze notevoli rispetto adesso però allora avevamo tutti quell'attrezzatura adesso hanno tutti questa quindi non è che si possa fare dei paragoni nel modo più assoluto ho avuto l'onore di gareggiare e di essere in squadra insieme a due torinesi doc che sono Clotilde Fasolis e Anaïd Tasjan con le quali è rimasto un bel rapporto magnifico rapporto uno dei miei allenatori è stato Gino Senigallesi di Bardonecchia e qui a Pianezza ho fatto i miei primi allenamenti a secco come dicevamo noi in primavera si facevano gli allenamenti a secco e poi si andava sul ghiacciaio quindi noi non andavamo in America a fare le trasferte in estate stavamo qui sui nostri ghiacciai eravamo allo stelvio piuttosto che al tonale quindi tutta una dimensione molto più se vogliamo umana romanzata gradevole, piacevole è stata una grande esperienza lascio la parola a voi grazie grazie da uno sport come lo sci che è un grande affare internazionale ormai se non altro per le attrezzature che le grandi aziende cercano di sponsorizzare anche indirettamente con i grandissimi atleti da vendere in tutto il mondo il circo bianco poi riguarda atleti di tutto il mondo il campionato si svolge in Europa negli Stati Uniti e così via adesso torniamo alla tradizione piemontese con il pallone elastico Pallapugno con Berruti grazie io vi porto il saluto della Pallapugno siamo onorati di essere stati inseriti in questo tascabile noi siamo molto legati alle tradizioni però stiamo cercando anche di agganciarci al treno del futuro infatti nel nostro fazzoletto delle colline delle Langhe e dell'entroterra Ligure abbiamo 170 squadre giovanili e quello che quasi nessuno sa è che per il futuro l'anno prossimo la Pallapugno sia pure un po' alleggerita perché chi non è abituato ai contraccolpi deve crescere con un pallone un po' più leggero ci saranno i mondiali in Sud America con 30 nazioni quindi stiamo facendo un passaggio enorme e faccio l'augurio e poi chiudo che questa cosa che è segnato qualcuno che ha fatto delle cose importanti per il passato aiuti questi ragazzi a trovare stimolo per loro perché a loro volta facciano qualcosa di importante per il futuro grazie all'amico Berrutti lo dicevamo il grande campione antagonista di Bertola un po' come Arpino definì Bertola la rivera dei campanili noi a questo punto possiamo dire come grinta il furino dei campanili perché era grintoso come furino darei la parola a questo poi ringrazio vedo tante persone ci sono anche come l'amico Lorenzo che è stato anche lui un giocatore che ha militato nella squadra gloriosa che è l'Alessandria l'amico appunto Ferrari del Savoia ma io adesso darei un attimo la parola che vedo in sala anche stringato anche sempre al presidente regionale del CAI il CAI devo dire negli anni del ventennio fu riconosciuto l'alpinismo come sport ecco perché ma è anche giusto che sia sport un grande esperto come Caribellaro proprio ieri ne parlavamo di alpinismo dice è degradante pensare che l'alpinismo sia considerato svago a tempo libero perché sono dei veri e propri atleti chi raggiunge gli 8000 chi va sulle vette chi lo fa quasi come professione a uno sport il presidente regionale nell'anno dei 150 anni del CAI Buonasera a tutti vi ringrazio per questo invito che sicuramente non ce l'aspettavamo però volevo soltanto ricordarvi che proprio la prossima settimana ci sarà qui a Torino con l'Assemblea Nazionale del CAI dei 150 anni e sarà una bellissima occasione dove saranno presenti tutte le sezioni dell'Italia circa 700 sezioni perché il CAI rappresenta 320.000 soci di conseguenza è un numero considerevole di appassionati per la montagna nella nostra attività della montagna abbiamo non soltanto l'alpinismo ma c'è anche il sci alpinismo lo sci ci sono anche ad esempio che avete visto in questi giorni si è svolto il Mezzalama che sicuramente è una gara molto molto importante e molto selettiva perché è molto difficile riuscire a fare dei tempi come fanno questi atleti il CAI ovviamente non è soltanto un'associazione che fa competizioni ma tutt'altro il CAI è quello che serve per accompagnare le persone in montagna oggi arrivo proprio da un incontro con il Soccorso Alpino che abbiamo avuto questo incontro e spiegava proprio che la montagna è bisogno di prenderla seriamente perché abbiamo visto che ci sono molti molti disgrazi che possono succedere specialmente le persone che vanno impreparati per pensare di fare qualcosa bisogna essere tutti preparati come uno sport come qualunque sport bisogna allenarsi e essere convinti di andare a fare queste imprese ovviamente ci sono le difficoltà estreme come ci sono i professionisti ma ci sono anche i direttanti quelli che si vanno la domenica o si possono anche andare qui attorno alle città niente io vi lascio la parola non mi dilungo molto proprio per lasciare parlare tutti grazie ancora bene prima di far parlare le società storiche abbiamo visto che è arrivata una campionessa del mondo Panico la campionessa del mondo di tiro con l'arco che vorremmo ci facesse un saluto se può avvicinarsi due parole grazie arrivate in ritardo almeno la parola buongiorno a tutti grazie no merita due parole perché è uno di quelli sport e sarò veramente sintetico noi li dobbiamo molto a questi sport perché siamo ingrati perché quando le olimpiadi dove ci sono degli sport che guadagnano fior di quattrini gli atleti non ottengono i risultati noi speriamo sempre in un risultato o dei coloro che tirano al piattello o coloro che tirano con l'arco per tirare sul medagliere olimpico e loro rispondono sempre signor sì quindi se lo meritano un saluto l'emozione lei è stata campionessa del mondo non riesce comunque è campionessa del mondo indoor a Ula in Finlandia e quindi per noi è un onore averla avuta è piemontese di Alessandria dove c'è una tradizione importante per quanto riguarda il tiro con l'arco e oggi possiamo anche dire che piemontese anche di adozione Gagliazzo perché si dice che si deve sposare anche in Piemonte lui è medaglia d'oro olimpica campione olimpico verrà a risiedere in Piemonte e in Piemonte grazie anche alla regione Piemonte lo dobbiamo dire sono i nostri datori di lavoro è stato attrezzato un centro centro federale nazionale a Cantalupa quindi qui tutta la nazionale azzurra di tiro con l'arco è sempre in pianta stabile a Cantalupa la parola al presidente nazionale dell'UNACI presentato dall'amico Bruno e questo è il cuore diciamo il cuore del nostro lavoro proprio è questo cioè queste società storiche che nel ormai ci sono c'è l'albo che prevede 70 anni due albi come ha spiegato Domenico Tomatis ma questo è il discorso della dirigenza senza la forza di queste grandi società che nel tempo hanno portato avanti questo discorso importante dello sport anche per diffondere certi valori nella società fra i giovani noi non saremo qui a poter festeggiare diciamo così la storia dello sport piemontese anche con dei grandissimi campioni di tutte le specialità non solo calcio la parola al presidente buonasera a tutti io sono Bruno Gozzelino presidente nazionale dell'UNACI l'unione nazionale dell'associazione sportiva centenari d'Italia e devo iniziare questo mio brevissimo intervento con un grandissimo grazie alla regione Piemonte perché è stata la prima regione in Italia a credere in questa iniziativa che il dottor Tomatis forse lo ricorda anche questa nasce a Torino l'assemblea costituente dell'UNACI dell'11 novembre 2000 organizzata insieme alla reale ginnastica a Torino e quindi questa associazione che nel 2004 diventa associazione benemerita del CONI che tenta un qualcosa che nemmeno il CONI e le federazioni sono in grado di dare che è il censimento delle società sportive sulla base del loro anno di fondazione perché tutte le federazioni hanno sì molto chiaro l'anno di affiliazione alla federazione la federazione di gioco calcio io sono stato recentemente all'anagrafe delle società di calcio mi sa dire tutto dal momento in cui una società entra nella federazione italiana di gioco calcio ma prima mi sa dire molto poco invece se non nascono le società sportive non nascono le federazioni e non nasce il CONI in Piemonte poi c'è stata la sensibilità nel 2002 di dare origine a una legge regionale e devo dire che personalmente posso essere testimone perché in parte ne ho scritto la bozza insieme all'amico Massimo Arri e alle persone che all'epoca erano presenti grazie a questa legge non solo è stato creato un albo non per le società centenarie ma per quelle storiche e noi siamo felicissimi di questo ma diverse società hanno ricevuto anche dei contributi per adeguare le loro sedi e per poter vivere meglio le difficoltà odierne oggi come oggi noi come un ASCII a livello nazionale annoveriamo oltre 200 società affiliate qualcuna non lo è anche in Piemonte ancora affiliate a noi però la valenza da tutela della salvaguardia della storia è fondamentale per il presente e per il futuro quindi io chiedo di aver parlato anche troppo ma volevo veramente portare questa testimonianza e questo ringraziamento in particolare alla regione Piemonte perché la regionale è diventata di esempio in Friuli Venezia Giulia in Emilia Romagna in altre regioni per leggi analoghe che sono in corso di emanazione grazie ancora a tutti voi per l'attenzione bene siamo stati nei tempi perché qui i tempi sono terribili un'ora a testa adesso arriverà qualcun altro io spero che questo incontro sia piaciuto a chi è intervenuto per me è stato magnifico quasi le lacrime agli occhi comunque spero che questo lavoretto sia stato molto utile dobbiamo ringraziare ovviamente il direttore della comunicazione istituzionale dell'assemblea regionale che ci ha permesso di fare questo lavoretto perché anche lui è molto sensibile a queste istanze del territorio perché qui in fondo è per valorizzare il nostro territorio che ha dato tutti questi campioni che abbiamo visto oggi grazie passo un attimo la parola a Domenico Tomato grazie a tutti loro anche da parte mia e un saluto anche dal presidente del consiglio regionale Valerio Cattaneo che aveva degli altri impegni non ho potuto partecipare a questo incontro ma mi ha pregato di rappresentarlo sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto dai colleghi Alessandro Bruno e Mario Bocchio perché hanno saputo tirar fuori davvero quella che è la tradizione dell'antico Piemonte sportivo è una cosa di cui dobbiamo andare orgogliosi penso che sia una di quelle cose che abbiamo trasmesso nello spirito unitario a tutto il paese speriamo che questo spirito possa ancora mantenersi grazie a tutti